Tuttavia, grazie a Dio, ci sono persone che capiscono che è necessario cambiare questo principio di vita globale per tutta l'umanità. Vedono una via d'uscita di questo vicolo cieco nella costruzione di un modello di società creativa. Allo stesso tempo, queste persone hanno un'ansia interiore e si chiedono se il progetto della società creativa non si stia sviluppando troppo lentamente. Abbiamo davvero la possibilità di realizzare questo progetto di società creativa in tempo? Penso lentamente, molto lentamente. Cosa possiamo realizzare con una tale velocità di sviluppo della società creativa, giusto, amici? Ma proviamo a guardare la cosa da un altro punto di vista. Sì, proviamo. Il progetto società creativa, diciamo, è nato solo due anni fa, vero? Esatto. Ma qual è la portata di questo progetto ora? È enorme. Sì. Citatemi un'organizzazione o un progetto che abbia mai avuto una tale velocità di crescita nel mondo. Da questo punto di vista la situazione è buona. È così. Guardiamo le cose anche da un altro punto di vista. Nessuno ha investito fondi in questo progetto. Non c'è alcun tipo di sostegno da parte dei media. Nessun tipo di sostegno. Stanno solo gettando fango su di esso. Non c'è nient'altro. È un progetto portato avanti dalla gente, giusto? Eppure si sviluppa un ritmo tale e l'unico progetto in tutta la storia, in tutta la storia dell'umanità che si sta sviluppando a un tale velocità e a un tale ritmo. Con così tante persone che lo fanno volontariamente a proprie spese, amici. E non c'è alcun aiuto concreto da parte di organizzazioni serie o altro. Dunque, si sta sviluppando lentamente? E quindi la coscienza inganna, giusto? Sapete chi è che dice che il progetto si sviluppa lentamente? Quelli che non fanno nulla. Anche alcuni dei nostri partecipanti dicono, beh, cosa vuol dire che si sta sviluppando? Dove? Non c'è niente. Ma chi lo dice? Ancora una volta, coloro che non partecipano ai progetti, coloro che non incontrano le persone. In pratica, coloro che sembrano partecipare al progetto società creativa, ma che invece non sono interessati a nulla e non… Che guardano da lontano. No da lontano. Ci sono persone che guardano da lontano in generale, mentre quelli di cui stiamo parlando siedono molto vicino, ma non vedono nulla al di là della loro stanza. Comunicano solo con coloro che vedono, quindi dicono non c'è più niente lì e questo è tutto. Come sarebbe cresce lentamente? In realtà cresce ad una velocità molto elevata. Rispondendo poi alla seconda domanda e cioè se faremo in tempo o no, io direi amici miei che dipende da noi se faremo in tempo o no. Anche in questo caso alcuni dei nostri amici che sentono parlare per la prima volta del progetto società creativa e che ci osservano per caso diranno dove dovremmo arrivare in tempo. Dove correte. Sì, dove correte. Ecco, a questa domanda vorremmo e dobbiamo rispondere in qualche modo con dolcezza. Diciamo che dovremmo costruire la società creativa prima che la società consumistica in cui viviamo ora ci porti a qualcosa di inevitabile per usare un eufemismo. Allora faremo in tempo o no? Se lo vogliamo, faremo in tempo. Giusto? Igor Mikhailovich, stiamo vivendo in un tempo di crisi, un tempo così turbolento, molto difficile. Molto difficile. Possiamo dire che in questo momento è più difficile sviluppare la società creativa? In questo periodo, il periodo delle crisi, è più difficile sviluppare qualsiasi cosa. Eppure una crisi è in realtà un momento meraviglioso per cambiare qualcosa. Perché? Perché ora la gente vede e capisce tutto ciò di cui abbiamo parlato nei tempi in cui non c'erano crisi, quando tutto andava bene ed era tranquillo. Beh, relativamente tranquillo, ma pur sempre tranquillo. Giusto? Allora la gente non ci ascoltava, ma adesso lo vedono da sole. E non mi riferisco alle crisi economiche, della geopolitica e delle guerre, che ora non stiamo prendendo in considerazione e nemmeno al fattore umano. Adesso mi riferisco al clima. Solo uno stupido non vede i cambiamenti che stanno realmente avvenendo nel clima. Qualsiasi persona media che sappia almeno calcolare cose semplici, come 2 più 2 e simili, può sommare tutto e vedere la progressione con cui tutto questo sta aumentando. Con tutto questo intendo i cambiamenti climatici disastrosi e che stanno aumentando a una velocità tale che si può calcolare quanto tempo ci rimane ancora a noi come umanità per esistere in condizioni più o meno normali. Non c'è molto tempo. Ma la società creativa può effettivamente cambiare le cose. È la cosa più accettabile per tutti. Giusto? Giusto. Voglio dire che è l'unica forma accettabile, non c'è altro modo di chiamarla, che andrebbe bene quasi per tutti. Beh, ci saranno certamente persone a cui non andrà bene. C'è sempre una Baba Yaga che si oppone a tutto. Questo è vero. Perché? Perché la società creativa implica l'assenza di potere di qualcuno sugli altri. Nel frattempo, alcune persone che non hanno alcuna possibilità di avere questo potere, ma che vogliono averlo in futuro, si arrabbiano. Non è così? Grazie a tutti.